Salve a tutti razzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info di The Sims 4. Oggi, 8 giugno, ci troviamo a 24 ore di distanza dal replay, dove finalmente scopriremo qualcosa di più e magari ci faranno vedere qualcosa di più. Ma ripercorriamo gli ultimi tweet di oggi, partendo dal SimGuruGeorge, che ci dice che è possibile utilizzare tutte le tradizioni che abbiamo visto nel calendario, nel trailer di ieri, per creare le nostre feste. Una conferma, lo sapevamo già, però è meglio sempre avere la conferma. Ci fa anche vedere il nome del coniglio, si chiama Flower Bunny in tutto ciò, e per il resto ci dice che sono molto molto contenti di aver accontentato anche gli utenti dell'emisfero australe. Perché, come vi ho detto, abbiamo la possibilità, credo, devo un po' capirlo, probabilmente con Season in mano cercherò di trovare qualche scappatoia per creare un Natale in estate. Ecco perché sono state aggiunte anche queste robe, e devo dire che è una cosa molto molto interessante. Altra cosa, ragazzi, riguarda un'iconcina con l'orso polare, che viene fuori quando facciamo il bagno nella piscina congelata d'inverno. Non so bene cosa succeda, è sicuramente una sorta di dinamica molto molto interessante, quindi probabilmente dobbiamo aspettarci qualcosa. Intanto leggiamo però qua che ogni giorno ha il tempo per una vacanza, quindi in realtà possiamo creare una festività al giorno, non più di una. Però possiamo anche personalizzarle per fare in modo che, diciamo, avere più dinamiche. Quindi in realtà se vogliamo un giorno in cui vogliamo vedere un film, piuttosto che raccogliere le foglie, possiamo personalizzarle in modo tale da fare più cose nella stessa festività. Altro tweet molto molto interessante, la SimGuru Emory ha perso gli occhiali, e c'è una schermata che riguarda il calendario. È un calendario molto diverso da quello che abbiamo visto nel trailer, è molto molto più complessa la schermata, e soprattutto questo è stato postato dopo il trailer. Significa che c'è qualcosa che ci devono far vedere di meglio. Quindi come vi ho detto, sicuramente si stanno ottenendo qualcosa o per domani, dove magari ci faranno vedere il gameplay, o magari per i prossimi trailer. Perché sì, domani c'è la conferenza, e non so bene se faranno vedere il gameplay, di solito è così. Quindi in realtà magari mi aspetto di vederlo domani. Altra dinamica espressa dal SimGuru Grant riguarda i ladri. I ladri che non sono presenti su The Sims 4. Lui dice che su The Sims 3 sono stati implementati ma davano qualche problema. Quindi in realtà su The Sims 4 hanno il tempo di implementarli fatti in modo migliore. Quindi non sta dicendo che non arriveranno mai i ladri su The Sims 4, sta solo dicendo che devono studiare bene come implementarli e renderli innovativi. Quindi in realtà magari in futuro ci possiamo anche aspettare il ritorno dei ladri in casa. Una domanda interessante che pongono al nostro SimGuru Grant, molto molto carina, è quale di tutte le cose di stagioni rivelate è la sua preferita? Ed è bello sapere anche il punto di vista del SimGuru, ovvero dello sviluppatore. E lui dice che le vacanze sono molto cool. In realtà è uno dei pilastri dell'espansione stessa, che anticipa il futuro. Ovvero c'è un senso che passa, di tempo che passa. Quindi il calendario ti permette di celebrare molti momenti chiave della tua storia. Creare un anno ed effettivamente così possiamo creare il nostro anno. E altra cosa, sempre legata al calendario, alle festività, è che se noi non le cancelliamo, ogni anno Sim si ripetono. Quindi se noi facciamo, che ne so, la festa del cinema in estate, quando poi tornerà l'estate, ci sarà di nuovo quella festività se noi non la togliamo. Ed è molto molto interessante questa cosa. Quindi possiamo creare un calendario con delle feste che vediamo ogni anno, oppure delle festività che non cancelliamo e ogni anno facciamo qualcosa di diverso. Anche questo è molto molto importante. Per il resto ragazzi sono tutti in attesa degli play, un po' come noi di domani. Però vorrei tornare un attimo nel trailer per vedere un attimo qualche screen, quindi bloccando il trailer, per farvi vedere qualcosa che ci è sfuggito ieri durante l'analisi, che è molto interessante. Una cosa molto interessante sicuramente riguarda gli ombrelli. Come vedete risentono come nella vita reale del vento e quindi si piegano. Ed è bellissima questa cosa. Ma ci sono delle chicchette in questo trailer che non abbiamo visto per bene. Un'altra è sicuramente questa. Vediamo la dinamica del congelamento. Abbiamo tutti i Sim che risentono del freddo e cambiano colore della pelle. E vediamo proprio il congelamento. Ma lei sta in costume ed è proprio tranquilla perché ha appena acquistato il tratto antigelo. Quindi pensate un attimo a quanto i tratti e i premi siano importanti. Altra cosa importante è che con l'inverno tutto il quartiere cambia. Abbiamo infatti i fiumi ghiacciati. Abbiamo l'animazione che ci fa vedere i fiumi ghiacciati. Ed è molto molto bella come dinamica. E poi quello che ho detto ieri ragazzi. Guarda la neve alla profondità che non sembra così male. Sicuramente dalla distanza. Cioè noi dalla distanza come vediamo sarà che il tetto comunque è pieno di neve. E quindi ti dà il senso di profondità della neve. Quindi dal lato diciamo dello zoom. Quindi da lontano. La neve è resa abbastanza bene. Probabilmente la vera pecca sarà quando giocheremo su distanze minime. Ovvero quando staremo sul sim in gioco magari ci renderemo conto della profondità. Però per il resto secondo me è molto molto carina anche implementata così. Anche perché come vi ho detto appunto i tetti. Guardate un po' questa casetta. Sembra davvero stracarica di neve. Ed è un effetto visivo dato dalla distanza. Ovviamente abbiamo i bambini elfo. Quindi possiamo vestire i nostri bambini da elfi di babbo natale. Quindi ci saranno nuovi vestiti eccetera. Lui oltretutto in questo pacco riceve dei simoleon. Non riceve un oggettino. Riceve dei simoleon. Quindi c'è anche la possibilità di guadagnare qualcosina. Altra cosa interessante del quale non abbiamo parlato. E sicuramente la piscina per i bebè. In questa piscina possono starci i sim grandi. L'abbiamo visto. I bambini e i bebè. Quindi in realtà anche per loro è stata aggiunta un bel po' di roba. Ed è molto molto carina. Ci sono diversi tipi di piscinette. Quindi ci sta ci sta. E sempre per quanto riguarda questo periodo dell'anno. Vorrei spostarmi un attimo. Per farvi notare una bella roba. Ovvero l'albero di limoni ai fiori. Quindi hanno ritexturato e modificato tutte le piante in modo tale che ci sia anche la fioritura. Ed è una cosa molto molto realistica che prima non c'era. E soprattutto con l'irroratore di acqua fresca possiamo giocare nelle pozzangre e anche rinfrescarci. Ma mettendolo ad una debita distanza probabilmente dalle piante stesse. Questo innaffia le piante. Ma lo fa anche la pioggia. Questo l'abbiamo già detto. Qua invece vediamo la festa del raccolto. Giustamente come avete detto nei commenti è una trasposizione italiana della festa del ringraziamento. Ci sta. Hanno aggiunto il tacchino. Quindi è giusto che ci sia anche la festa del ringraziamento. Quindi ci sta ci sta. Vedo anche una torta di compleanno. Vedo la torta che portano i vicini. Quindi sì c'è un bel po' di roba. C'è un bel po' di roba. E ovviamente abbiamo poi qua il fichi fichi tra le foglie. Lui che davvero dobbiamo ancora capire come funziona. Quindi sì c'è tanta tanta carne al fuoco. Ma direi che con questo video ci fermiamo così. Io raccoglierò gli ultimi tweet. Gli ultimi discussioni probabilmente. E ne parleremo domani durante la live. Inutile ricordarvi che domani ci sarà replay. La live alle 19.45. Vi aspetto ragazzi. E questa live è molto molto importante. Perché come vi ho detto. Questa non è una semplice espansione. Dei Sims 4 non è lo stesso dei Sims 4 del 2014. C'è qualcosa che si è rotto inavvertitamente. Lo sta rendendo probabilmente nuovo. Quindi in realtà c'è un processo di rinnovamento del gioco. Questa espansione è importante perché ha riscritto tutto il gioco da capo. E ragazzi scopriremo domani quale sarà il futuro del nostro gioco preferito. Se davvero ci diranno qualcosa. Perché magari ci possiamo anche trovare solo davanti a un gameplay. O alle spiegazioni di questa espansione. Sta di fatto che l'immagine del calendario sfocato. Mi fa ben sperare. Che magari ci sia qualche altro contenuto. Ma lo vedremo sicuramente domani. Non ho dei fogli da spostare. Quindi prendo un'agenda e la sposto. E vi dico che l'appuntamento con i prossimi TG di The Sims 4. Sarà sicuramente nei prossimi giorni. Io spero che questo video vi sia piaciuto. E se così vi invito a mettere un mi piace. Iscrivetevi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi do come sempre l'appuntamento ai prossimi video. E vi dico ciao a tutti. Grazie. Grazie.